E benvenuti a Vitamina EDC, la dose settimanale del nostro integratore di felicità. Ogni sabato alle 14 per scoprire quali sono le ferraglie che mi sono portato dietro e un po' le mie considerazioni a riguardo. Ricordatevi che questo è un momento che condividiamo insieme quindi lasciatemi qui sotto nei commenti il vostro EDC e le vostre preferenze per questa settimana. E come primo oggetto EDC ecco un nuovo portafogli da HeliconTex. Arricchiamo la gamma con EDC Large Wallet della linea Urban di appunto HeliconTex. Come state vedendo a schermo sono già disponibili tutte le misure più piccole del Large quindi il Micro, Small e Medium. Comunque si tratta di portafogli realizzati in cordura questo è davvero grandicello e a me piace l'idea di un portafogli grande anche se devo portare qualche documento. Immaginiamo porto d'armi, libretti vari, passaporto insomma quelle situazioni in cui voglio raccogliere tutte le cose importanti in un unico contenitore e tenerlo ovviamente bene al sicuro. Il Large Wallet arriva con una bella zip che ci aiuta a proteggere i nostri risparmi ed è utile per costruire quasi delle paucettine EDC. Ci si può inserire qualche cerottino, bigliettini vari, carte. Allora la cosa che mi piace ve la faccio vedere immediatamente. Ah questa è bellina eh? Questa è molto bella. Poi ne parliamo. La cosa che mi piace molto è la doppia tasca qui nella zona soldi. Cioè c'è una tasca segreta nascosta vedete con questo flap si copre ed è un'ottima tasca per il malloppo. È evidente che se siamo in giro non vogliamo mostrare magari tutta la nostra ricchezza qui teniamo qualche spiccettino e qui dietro magari dei soldi grossi oppure dei documenti. Io ci ho sistemato perché avevo messo la pennetta. Anche un blocchettino rettenderà in un quadernetto che ci sta da dio. Allora cosa abbiamo qui a disposizione? Una zona trasparente per identificativi, carte varie e ragazzi questo è davvero capiente. Ci stanno dentro tutte le carte che volete, i bigliettini perché è proprio grande come portafogli. Anche una taschina qui per una chiave sfusa, qualche chiave. Ho il bellissimo Nightcore NTK05, il bisturino disponibile anche lui su backpack.it. Sta qui senza problemi in titanium, non lo sentite proprio. E qualche spiccetto fate voi. È una classica tasca dei portafogli, non c'è mica da fare tutta questa poesia. Ma è proprio l'idea di avere un portafogli così grandicello che forse può sbloccare qualche idea, qualche kit, qualche organizzazione eccetera. Io ritengo che sia un portafogli davvero ottimo questo per conservare documenti negli zanni da prepping, per conservare piccoli kit da prepping tra cui il fly out kit di cui vi parlerò tra qualche video. Ci dobbiamo arrivare con calma. Però ecco è un portafogli grande, buono pure per tenere ad esempio il porto d'armi, la patente da radio amatore, quei documenti che sapete vi possono far comodo e volete tenerli bene a posto. In tasca come sta? Beh in tasca è grandicello e sicuramente potreste sentirlo, soprattutto pieno di malloppo e di accessori. Quindi è sicuramente indicato dotarsi di una borsetta, di un EDC, di una monospalla. Fate voi di qualcosa che vi permette di tenerlo dentro e portarlo a seguito. Ed ecco i colori in cui è disponibile l'EDC Large Wallet di Helicon Tex e trovate tutti i dettagli e le foto su backpacko.it. Così come trovate sempre su backpacko un sacco di portafogli e portacarte, date anche un'occhiata agli ultimi EOS che sono arrivati e beh quella è una soluzione sicuramente opposta ad un portafogli così grande. E adesso il mio coltellino EDC della settimana passata e che è anche un po' una novità per backpacko. Si tratta del Black Fox Bee Key. Beh che ne dite voi di portare una lama piccolina come EDC? Sono usciti da poco gli Ant di Extrema Ratio, ve li metto un po' a confronto, ma questa idea generale di portare un coltellino piccolino mi sta piacendo sempre di più. Ma finora mi avete sentito parlare di Fox come azienda di Maniago quindi che significa Black Fox? Beh è una linea di coltelli prodotta all'estero ma disegnata in Italia e controllata da Fox. Nello specifico questo gioiellino è stato disegnato da Beric Design, quindi un design italiano di un gruppo di amici appassionati di EDC che spero di presentarvi presto. Il manico è realizzato in alluminio anodizzato in colori bellissimi tra l'altro. L'apertura è a flipper ed è una favola, ci giocherete tutto il giorno perché ci aiuta il peso della lama che è di ben 4 mm. Trattamento superficiale della stessa è stonewashed quindi mano a mano che lo usiamo non si rovinerà poi più di tanto perché? Beh perché è già lavato nella roccia. Il disegno della lama è uno sheepfoot molto particolare ma mi piace troppo con queste grandezze avere uno sheepfoot perché ragazzi funziona tutto qua alla fine fa quello che deve fare. La clip è in acciaio inox ed è removibile senza problemi non è reversibile. Il distanziale anche questo è in acciaio inox. La lunghezza della lama va detto è di 4,5 centimetri mentre la lunghezza totale è di 10 centimetri. Lo spessore ve l'ho anticipato addiriva addirittura 4 mm ed è tutta realizzata in acciaio 4,40 A. Parleremo in futuro magari di questo acciaio e delle sue versioni A, B, C, D e tutto il resto. Per il momento vi basti sapere che aumentando le lettere, no andando avanti nell'alfabeto, aumenta la percentuale di carbonio e quindi la resistenza alla corrosione. Tuttavia vi ricordo che anche il martensitico 4,40 A di questo bellissimo B-Key è inox ed è temperato tra i 58 e i 59 HRC. Basta con i tecnicismi ci interessa solo sapere adesso che pesa soli 70 grammi e la lama si blocca in posizione grazie a questo liner lock. Il grip che offre il coltellino è fantastico con questo alluminio fresato e i colori ve li faccio vedere tutti qui. Ragazzi non ve lo perdete questo vi piacerà ma se cercate altri coltellini piccolini da avere come DC senza troppo impegno beh li trovate tutti già pronti per voi su Backpacko.it. Come torcia DC sapete che non vado mai in giro senza Nightcore DC 33 è la torcia del momento è la torcia di cui non posso fare a meno. Mi piace troppo la potenza mi piace il design e le dimensioni compatte. Non sto qui a rispiegarvela perché l'abbiamo vista ormai in tutte le salse tutte le caratteristiche le trovate su Backpacko.it dove c'è il mio video della recensione completa che è uscito anche questa settimana su YouTube e ve lo lascio anche in descrizione perché su una torcia c'è tanto da dire. Perché l'ho scelta? Beh perché la dovevo provare bene in EDC ma perché mi è piaciuta troppo mi piace la presa sicura mi piace il blocco meccanico che mi permette di non bruciarmi più i pantaloni ed è comunque dotata di un sistema di sicurezza che mi controlla la vicinanza degli oggetti e questa cosa mi piace senza menzionare il famosissimo Lumen Shield a 4000 lumens di potenza per difenderci dai cattivoni. Beh non l'ho ancora usata in quel senso ma qualche scherzo a qualche amico ovviamente l'ho fatto non pensate che io non mi prenda queste libertà. E un EDC che mi ha accompagnato beh non tanto tutti i giorni ma sulla neve con estremo gusto sono gli occhiali Wilix Ozone. Eravamo sulla neve con la mia amata moglie e beh tirava un gran bel venticello sulle seggiovie in cima arrivava davvero un bel venticello ma per fortuna avevo in borsa anche la mascherina in dotazione con gli Ozone. E questa mascherina con l'interno in spugna sigilla tutta la parte degli occhietti e il vento non passa. Quando poi voglio un po' di fresco schiaccio di qua e mi arriva il fresco. Allora inizialmente la portavo sempre poi ho iniziato a toglierla e a metterla in base all'esigenza però mi piacciono troppo gli Ozone e questi sono fotocromatici e quindi si adattano a seconda della luce che colpisce beh i miei poveri occhietti azzurri. Ecco che mi hanno fatto davvero comodo. Tutti i giorni li porto senza la protezione di gomma piuma ma siccome l'avevo nello zaino nella sua custodia che arriva con gli occhiali beh ragazzi l'ho presa l'ho montata in un attimo e mi sono goduto molto di più la mia escursione nevosa. E come penna sapete che non resisto mai a questi giochini beh mi sono portato in giro la balio di Spiderco. Non sono diventato più bravo di quando non fossi ma sto inventando anche dei giochi nuovi per cui mi prendo questa licenza di sembrare un po' imbranato però devo anche divertirmi e provare dei giochi nuovi con la mia penna a butterfly che sembra un coltello a farfalla. Beh mi piace molto giocare con queste cose avere qualcosa per le mani durante la settimana. Alla fine se ci fate un po' caso tutto quello che avevo nell'EDC mi offriva questa modalità fidget scaccia pensieri. Per esempio la EDC 33 ne ha ben due. uno è questo che sto praticamente le giornate a giocare così con la copertura della ricarica USB ve la mettete in mano e fate così ed è piacevole. L'altro impagabile il pulsantino di blocco qui lo slider l'interruttore di blocco manuale. Mi è sempre davvero servito avere qualcosa in mano con cui giocare per questo probabilmente sono sempre alla ricerca dei flipper dei coltellini che mi fanno fare questa cosa qui. E non si salvano neanche gli occhiali che hanno questa cosina di click click. Quindi sto sempre a giocare con qualcosa per fortuna qui a Backpacko abbiamo solo oggetti tostissimi che non ci abbandonano. Per quanto riguarda questo porta documenti porta fogli se vogliamo non l'ho dedicato ai soldini io ma a tenere delle tessere dei libretti come appunto il libretto da radio amatore la patente da radio amatore autorizzazione ministeriale tutte quelle cose porto ad armi così so che se vado in giro mi porto questi documenti quando mi servono. E ora che vi ho mostrato il mio EDC aspetto di conoscere il vostro lasciatemelo qui nei commenti o postate pure una foto su tutti i social con l'hashtag vitaminaEDC. Noi ci salutiamo io vi auguro un bellissimo fine settimana ricco di avventure ci rivediamo domani alle 20 con una recensione completa e poi da lunedì si ricomincia con tutto il nostro programma. Ragazzi è stato un piacere e alla prossima!